Ciao a tutti e benvenuti su Polveri di Viso Oggi ricetta dei cereali fatti in casa Vi avevo già fatto una versione Questa è una nuova versione dei cereali fatti in casa Perché sono semplicissimi da fare A basso costo Ed è veramente comodo farli in casa Quindi vi lascio la ricetta e buona visione Grazie a tutti Grazie a tutti E come qui spero che la ricetta vi sia piaciuta Se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su Condividete il video con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale e mi trovate su Facebook E su Instagram come Polveri di Viso Mi raccomando Vi mando un bacione grande E noi ci vediamo al prossimo video Baccio Ciao 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 Ciao